C'è sempre un certo effetto. Ecco qua, faccia un po' sconvolta perché siamo atterrati qualche ora fa a Delhi e stiamo vedendo fuori dalla montagna e c'è un pranzo veloce. E' bello perché c'è un lavandino, lì ti davvi le mani prima di mangiare, è anche igienico. E' arrivato il primo pasto. C'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? ... Abbiamo dovuto abbandonare la macchina del driver perché non riusciva ad andare da su Andiamo su con il padrone dell'hotel Che sono 3 km E' stata più o meno così come state vedendo E' molto interessante la situazione Bello Siamo arrivati Questo posto è un attacco Ci apre la stanza Ecco qua Wonderful Mi ha detto Wonderful Buona Qua è una cena in Malayana Con questa specie di rifugio Con freddo chiaramente Quasi 3.000 metri Facciamo questa una cena Questo è uno spicy E questo è uno spicy Bravo